Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Una canzone bellissima dai Zorchinez, rifatta dai Nouvelle Vague, Road to Nowhere. A Miracolo Italiano sono alle 11.36, oggi è lunedì, dell'ultima settimana di Miracolo Italiano e stiamo parlando di eventi. E' un evento, si è appena concluso. Sigla! Venezia, 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 il cinema in pera. Allora, non potevamo non collegarci per un'ultima volta di sunto, favoloso, con la nostra giornalista anche del Corriere della Sera, in secondo luogo. Stefania Ulivi. Buongiorno Stefania. Buongiorno, bentrovati. Bentrovati, stai facendo i bagagli? E sarà ben già tornato. Sono a casa, sono a casa, è diventiva. Ma nell'immaginario partiva oggi. Allora, sei contenta di come sono andate le cose? Guarda, sono contenta perché Bertolucci, secondo me, ha fatto un miracolo, per citare voi, tutto passa da voi, perché era difficilissimo questo verdetto. In verità, il leone che convinceva tutti non c'era, a parte appunto Filomena, che è il film che è piaciuto a tutti, ma che va con le sue gambe e che alla fine è stato giusto premiare con la sceneggiatura perché è scritto in maniera divina. Ha vinto anche il Queer Lion, tra parentesi Filomena. Ha vinto tutto, no, ma ha vinto il premio degli atei, il premio dei cattolici, il premio dei gay. Allora mi preoccupa, mi preoccupa. Chissà, poi ci dirai. Per cui è comunque un verdetto che sta facendo il giro del mondo, sta facendo discutere tutti i giornali da una parte all'altra dell'oceano, il che significa che Venezia comunque resta centrale. Io di questo poi ti volevo fare una domanda appena è finito. Sì, per cui secondo me, viste le condizioni, ha fatto la cosa giusta. Ricordiamo chi ha vinto, è un documentario, quindi. Ha vinto Franco Rosi, un documentario, lui è un regista molto noto, già premiato a Venezia in orizzonti di cinema del reale, perché poi oramai ecco la definizione documentario è stretta. Gli altri due contendenti erano quelli che si sono poi aggiudicati gli altri premi, cioè Miss Violence del greco Avranas e Stray Dogs di Simon Young, che molti c'erano i cinesi che sognavano come leone, però sarebbero state scelte che avrebbero confermato quest'idea di Umberto Lucci che, come dire, pensa all'arte e non pensa al pubblico. Senti, io ti volevo fare una domanda perché non abbiamo molto tempo. Io ho sentito dire da molta gente là che Venezia in realtà ormai è alla fine e che questa tipologia di film è stata fatta vincere perché in realtà film veri non ce n'erano, perché nello stesso periodo c'è il Festival di Toronto e oramai vanno tutti al Festival di Toronto. Allora, il Festival di Toronto non c'è competizione, per cui ci credo che ci vanno tutti, non c'è competizione, ci sono tutti vincitori, no, è un Festival Fantastico dove c'è il mercato e va bene che esista Toronto perché poi i film devono essere venduti. Sì, sì. E Venezia si chiama, è la prima, il primo Festival del Ciro si chiama Mossa Internazionale di Art Cinematografica. Certo. Se non fa ricerca Venezia, chi lo deve fare? Quindi non è vero niente, mi rassicuri. Brava, siamo sereni. Quello che mi preoccupa è invece poi la tendenza, una volta scoperto un filone, prenderlo. A seguire quello. Adesso si pensa che c'è il documentario. Io temo che arrivino tre metri sopra il raccordo, i ragazzi degli arrei, bocciati a boccea. Puffetta, diventerà anche film. Puffetta sulla strada. Allora, Fabio, allora Stefania, però concludentissimo, insomma i film italiani si sono comportati benissimo, insomma. I film italiani si sono comportati benissimo e ci sono anche poi degli altri appunto, c'è stata l'attenzione per Zoran, c'è stata la grandissima attenzione per Stillaes di Pasolini che è il produttore di Fulmanti. Sì, l'abbiamo intervistato. Sì, sì, l'abbiamo intervistato, certo. Però giustamente poi Barbera faceva notare che loro ne hanno visti tantissimi, i film italiani e ahimè non è che ci sia da stare poi... Vabbè, contentiamoci così, forza. A questo punto andate, andate a rivedere, escono tutti. Ecco, tutti al cinema, adesso dobbiamo sostenere il cinema. Grazie Stefania, vivi, un bacio. Un bacio, ciao, ciao.